Oggi vogliamo presentarvi un piccolo libro dal grande messaggio, il vero Gesù. Questo breve volumetto è semplice e diretto e si può leggere tutto ad un fiato. Ideale anche per essere regalato a chi Gesù ancora non lo conosce. L'autore è Carl Lafferton, direttore editoriale di una casa editrice evangelica. Ha studiato storia all'Università di Oxford, ha lavorato come giornalista e docente ed è stato anche pastore nella città di Hull, Regno Unito. Come a Di Medi abbiamo già pubblicato in italiano il suo libro Spiritualmente in Forma, 16 passi per il benessere della tua anima. Ma tornando al nostro libro, all'inizio Carl Lafferton paragona i vari concetti che le persone hanno di Gesù ad un ritratto. Che sia uno scarabocchio, un disegno dettagliato, nessun ritratto però può esaurire le mille sfumature che compongono una persona. Ecco il motivo per cui non sposiamo un ritratto e non facciamo amicizia con una fotografia. Non trattiamo il prossimo come se potesse essere sintetizzato in un disegno appena abbozzato. Tranne Gesù però. Generalmente, infatti, si pensa che Gesù dovrebbe essere considerato soltanto un'immagine, non riprodotto su di un foglio, ma nella mente umana. La maggior parte di noi a un certo punto gli ha dato almeno una rapida occhiata, forse andando in chiesa, ascoltando i racconti dei genitori o leggendo qualche libro e ha tracciato di lui un ritratto mentale, per quanto approssimativo. Forse anche tu negli anni sei riuscito a perfezionare questo ritratto con una certa cura, oppure l'hai realizzato parecchio tempo fa e da allora non hai più gettato uno sguardo su quell'immagine. L'immagine che si ha di lui, Gesù, spesso è quella che si adatta meglio alla nostra vita e che reputiamo più funzionale. Ma se lo osserviamo attentamente attraverso le pagine dei Vangeli, Gesù smette di essere ciò che vogliamo noi. In quel momento troviamo l'originale. Scopriamo cioè che il vero Gesù, l'originale, quello che ha vissuto una vicenda profondamente umana, che ha camminato, parlato, mangiato, dormito, pianto, era molto meglio dell'immagine che spesso ci viene offerta di lui, perfino nella chiesa. E' assai più interessante, più controverso, più imprevedibile, più rilevante, decisamente più reale. E questo libro parla del vero Gesù. Potrebbe essere piuttosto diverso dal Gesù che pensavi di conoscere o che a un certo punto ti sei lasciato alle spalle, però di fatto è assolutamente reale. Nei vari capitoli che si susseguono, Carl Lafferton esamina sette modi di vedere Gesù molto diffusi. Un buon insegnante, un dio distante, un combattente per la libertà, un giudice intollerante, un religiosissimo osservatore delle regole, un tragico fallimento o una favola per bambini addirittura. Ma attingendo dal Vangelo, Lafferton smonta questi concetti, confrontandoli con il vero Gesù, facendoci capire perché è così importante sapere chi è davvero. Ogni capitolo è diviso in due sezioni principali. La prima parlerà di ciò che lui ha compiuto veramente, quello che Gesù ha effettivamente detto e fatto più di duemila anni fa. Nella seconda parte, invece, si vede quale impatto può avere tutto questo sulla nostra vita, sulle nostre speranze e sul nostro futuro. Esaminando alcuni episodi reali dei Vangeli, il lettore scoprirà le motivazioni più profonde delle azioni di Gesù. Perché parlava del suo regno, perché è morto sulla croce e infine è risorto. I capitoli finali sono dedicati proprio alle parti umanamente più incredibili, come i miracoli di Gesù, la sua risurrezione. Scoprirai che Gesù non ci ha offerto semplicemente una via di fuga dall'inferno e un biglietto d'ingresso per il Paradiso, ma una relazione che comincia qui, ora, sulla Terra. In ultima analisi, questo è un libro sul Gesù più autentico, quello che ha vissuto realmente nella storia umana, quello che spesso viene nascosto dietro tutte le altre versioni di Gesù che ci vengono offerte. Il Gesù controverso, compassionevole, a volte anche scomodo e spesso imprevedibile, ma assolutamente vero. Non ci resta altro da fare che conoscerlo. Perciò, leggete questo libro e buona lettura. Dio vi benedica.